Senti, noi stiamo da tanti anni assieme. Ti volevo chiedere una cosa. Dimmi. Perché ti sei innamorata di me? Perché sei divertente. Mi hai deluso. Io pensavo che dicessi per il mio aspetto fisico, per come so fare l'amore. Lo vedi? Sei divertente. Ti sembra fatto bene? No. No. Senti, amore, ma non ti sembra che negli ultimi tempi io sia ingrassata un filino? Se te lo dicono ti arrabbi. Assolutamente no. Sei ingrassato un filone. Ma allora tu pensi che io devo mettermi a dieta subito? Immediatamente. Dammi duemila euro. Duemila euro. E che ci devi fare? Devo andare ad asetologo. Ti posso dare dieci euro. Dieci euro? E che cosa me ne faccio? Ti compri un lucchetto, lo metti vicino al frigo, riframmi dai laicani. Oiem. Waissero sécurité.